Il nostro corso è stato difficile, è stato doloroso, è stato sbagliato. Non ci sarà un modo facile, non un paese per sfruttare, non un paese, non un comfort o un rest. Perché il più alto è il più alto, e il più alto è il più alto, e il più alto è il più alto. Quindi, dove finirà? Non è mai finito. E chi è la persona in controllo? Io sono. Noi permette che la voglia delito. Si non lo rai la voglia, non lo rai la voglia. Non lo rai la voglia di farlo. Non lo rai la voglia. Non lo rai la voglia. No. Non. Perché, il chi è la persona in controllo? Io posso. I'll be solid like rock and rootless like fire. I'll be formless, shapeless like water. I'll be the breath of all things that are living. I'll float like a butterfly and sting like a bee. And I will be the inevitable destiny they left to a seed. Because who's the one in control? I am. Never will I give up. Never will I bang before my pain. As I'll be the infinite that expands in all things. And the nothing that contains the hurricane. Because I am the one who is in control. And sky is my limit.